Ora vediamo se Bocchino darà corpo alle affermazioni che ha fatto contro Bossi, vediamo se riusciranno a fargli togliere da una scuola pubblica i simboli padani di una padania inesistente, vediamo se riusciranno a fargli chiedere scusa per aver detto quella frase che i romani sono porci questi romani, non credo che ci riusciranno, non credo che lo faranno, non credo che lo vorranno fare, ora che Fini è ufficialmente l'ago della bilancia e conta quanto Bossi, non credo che vorrà su questa questione andare più in là di tanto e punire veramente un uomo come Bossi, questa volgarità, ma soprattutto questa violazione, vedremo se vorrà veramente difendere la Costituzione, vorrà veramente difendere l'identità nazionale come ha sempre detto di voler fare, vedremo, io credo di no, credo che finirà lì come è sempre finita con Bossi, perché hanno paura di andare alle elezioni anticipate, Fini ha votato la maggioranza per due ragioni, per non andare alle elezioni e per dimostrare che conta e che è determinante per mantenere in piedi questo governo, questo straccio, questo disastro di governo. Grazie. 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 Grazie.